Forza Italia è in circa di compattezza e condivisione di linea politica. Dopo le ultime stoccate tirate dall'ex assessore regionale Mauro Febbo al coordinatore regionale Nazario Pagano, sulla cattiva condotta delle relazioni interne al partito si riparte per la ricostruzione. Amministratori locali, esponenti di Forza Italia, coalizioni di centrodestra e soprattutto i cittadini sono invitati ad un incontro organizzato in poco meno di tre giorni a Pescara dove ospite d'onore sarà l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo per intenderci quello che fu definito il sindaco più amato dagli italiani. Cattaneo rappresenta l'organismo deputato proprio dalla struttura di Forza Italia per lanciare un messaggio nuovo di rinnovamento. Questa conferenza stampa ha la finalità di invitare tutti quanti gli amministratori perché ci ha dato la disponibilità solamente tre giorni fa e quindi ha uno scopo divulgativo per invitare tutti gli amministratori per fare un punto sulla situazione, per ritrovare l'unità non solo per Forza Italia ma per l'intero centrodestra e rilanciare un'azione positiva e costruttiva su tutto il territorio senza divisioni, correnti o quant'altro. L'unità al centro dell'azione politica di Forza Italia e di Silvio Berlusconi ovviamente. Un incontro rivolto soprattutto agli esponenti di Forza Italia poiché di inviti mancati e salotti ristretti a pochi eletti si era lamentato solo un giorno fa Mauro Febbo. Ecco allora il ramoscello d'ulivo. Assolutamente sì, il messaggio è un messaggio di costruzione dell'intero centrodestra da un nucleo centrale che ovviamente è quello di Forza Italia e chiamare anche tutta la cittadinanza interessata alla politica perché la gente vuol sentire parlare dei programmi e di quello vogliamo parlare. Lo possono fare solamente in maniera più compiuta a quelli che sono amministratori o hanno amministrato nei vari comuni perché hanno un rapporto diretto con la cittadinanza e hanno sviluppato quella sensibilità tale da raccogliere le loro stanze.